Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. In A1 personale sulla strada per lavori tra Valdichiana e Chiusichianciano in entrambe le direzioni. In Fippillè attenzione alla perdita di carico accidentale tra Empoli Est ed Empoli in direzione Livorno. Attenzione al personale sulla strada per lavori in direzione Livorno tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno e tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest e in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. Per le statali sulla Trebbistiberina a fondo stradale dissestato tra Val Savignone e San Carlo in entrambe le direzioni. Chiusura di una corsia per lavori tra città di Castello e Sansepolcro Sud in direzione Ravenna. Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!